Assessore Borracino, proprio al volo, un suo commento sull'assessore all'agricoltura, l'assessore regionale Leo Di Gioia, che appoggia, sostiene la Lega alle europee. Una contraddizione? Insomma, mi sono già espresso anche con il mio partito, con il mio capogruppo Ernesto Abaterusso, insomma, la dignità vorrebbe che Leo Di Gioia si dimettesse da assessore. Non può un uomo in una giunta di centrosinistra, una giunta regionale. Lui fa l'assessore dai tempi del presidente Nichi Vendola, che lo chiamò in giunta pur venendo dal centrodestra. Non può assolutamente continuare a dichiararsi uomo di destra, non può dare un sostegno alla Lega. Lo abbiamo chiesto al presidente Emiliano, aspettiamo l'elezione e poi vedremo che cosa accadrà. Io ritengo che sia assolutamente un controsenso per lui ed è un controsenso anche ovviamente per noi. Non possiamo assolutamente continuare a pensare che un uomo che sostiene un candidato della Lega, della Lega che non soltanto per quanto riguarda i rigurgiti xenofobi, neofascisti che ha nel suo ventre, ma anche per quello che riguarda l'impoverimento attraverso l'autonomia differenziale delle regioni meridionali, quindi della nostra regione, della Puglia, continuare a fare l'assessore. Poi nulla di personale contro l'assessore, contro il collega, ma penso che ci sia una decenza a tutto e non può fare un assessore regionale una dichiarazione a cuor leggero in questo modo.